Premessa la mia piena fiducia all'azione politica e amministrativa del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, è opportuno tuttavia sottolineare come il rapporto fiduciario e di stima nei confronti del primo cittadino sia cosa ben diversa dall'opinione che ho sui metodi e sulle scelte politiche operate dagli assessori e dai consiglieri che attualmente rappresentano la lista Ora Ghinelli nella quale sono stata eletta. Comincia così un comunicato stampa della consigliera Meristella Cornacchini che lascia la lista Ora Ghinelli in consiglio comunale e passa al gruppo misto. Cornacchini parla di mancanza di partecipazione nelle scelte nei confronti dei consiglieri relegati a semplici esecutori dell'altrui volere. Un metodo arrogante dice la consigliera lontanissimo dal mio modo di fare politica con chi pensa di agire in questo modo non ci può essere armonia. Lascio il gruppo Ora Ghinelli perché sono delusa e allarmata per come in esso abbia preso consistenza un modo di agire politico fatto di subordinazione forzata che pone un forte freno al mio impegno per la città. Attraverso il passaggio al gruppo misto potrò invece portare a termine il mio dovere e dare continuità all'impegno di occuparmi dei problemi della città.